ciao e bentornati a interno due punti questa mossa mi è stata richiesta da una di noi in particolare non farò nomi ma mi sono stati permessi dei soldi quindi come non farla quindi benvenuti a interno due punti il nostro appuntamento ormai direi settimanale del giovedì alle ore 21 e 30 sul canale twitch digital records e oggi come potete vedere siamo io martina francesca e sabrina ma abbiamo anche un io vorrei chiamarlo ospite in realtà è un nostro amico di vecchia data un quasi ospite esatto è una talpa anche se volete è l'uomo dietro come si può dire dietro lo schermo e dietro tutto l'ambaradan che vedete e siamo noi ospiti loro o sempre questo sempre però voi siete le persone che ci mettono la faccia di solito di solito me ne sto dietro nick è uscito dall'ombra per venire appunto stasera ospite in puntata con noi quindi benvenuti a tutti benvenuto nick grazie mille per aver accettato il nostro video mattepasto comincia già a mandare emoti con di gatti con occhiali da sole però benissimo perfetto benissimo e noi le prendiamo a pioggia oggi vogliamo un sacco di domande perché nicolò è prontissimo quindi stiamo tranquilli facciamo parlare lui nick si è anche scavato un po' la fossa da sole in realtà perché sapeva benissimo a cosa andava incontro detto ok ci sto quindi noi siamo stracontenti vabbè vediamo come va al massimo dato che sono io in regia posso chiudere la live in qualsiasi momento perfetto puoi simulare il vecchio sentendo in galleria non posso parlare ecco esatto questo is the news sto entrando in galleria intanto noi beviamo speriamo che si si saluto a tutti è già disconnessa sabrina quindi su twitch vedranno cose bizzarre sabrina mi deve dei soldi è lei che mi ha chiesto questa cosa ora lo posso dire comunque nick tu sei pronto io sono pronto aspettiamo che sabrina ritorni al mondo dei vivi ci sono ci sono ovviamente ero io e la cosa mi si è ritorta contro direi ottimo e perfetto iniziamo proprio benissimo in realtà perché ho fatto un'invettiva prima contro discord e il sistema mi ha sentito mi sente ancora e se sei ancora lì io adoro discord lo so usare benissimo e perfetto e andiamo in colore viola ma il viola cioè l'abbiamo utilizzato anche per le nostre grafiche proprio per questo e iniziamo la puntata sempre con la nostra super non è proprio una rubrica però vabbè chiamiamola intervista un po pazzerella con la citazione e niente ci serve sempre questa super intervista un po per sciogliere il ghiaccio un po per conoscere nel profondo i nostri super ospiti nel profondo soprattutto profondissimo scaviamo l'animo umano perfetto allora ciao nicolò benvenuti tra noi andiamo con la prima domanda nome d'arte nome d'arte allora in quanto musicista non ho mai avuto un nome d'arte perché faccio schifo con i nomi fondamentalmente quindi sono semplicemente nicolò ma in quanto gamer appassionato condivido un nome d'arte con la mia ragazza che è boscarian di cui non ricordo assolutamente l'origine però ci chiamiamo così è un po imbarazzante non ce la vuoi dire no perché in realtà non non ci ricordiamo veramente l'origine di questo nome e quindi adesso intanto ci hai già anticipato una piccola cosa della puntata che poi ovviamente dobbiamo approfondire il fatto che hai un nome d'arte da gamer e poi approfondiremo non è vero io me lo riporto matilde tra l'altro è in chat nonostante sia dietro di me e dice che lei si ricorda l'origine del nome matilde scrivicelo in chat scrivi in chat poi io leggo tutto allora il tuo nome se fossi invece del stesso posto questo me l'ero preparato e sarebbe andrea beh vabbè in realtà andrea è un nome che mi piace molto in una donna quindi se fossi donna forse mi mi piace anche al gender fluid va benissimo nick quanti anni ti senti 720 spaccati più o meno dai secolo più secolo meno non mi sento molto giovane va bene noi questo lo accogliamo anche io sono del tuo team e invece l'altra domanda è da bambino che lavoro volevi fare architetto ci sei quasi vicino dai vicinissimo a me la domanda più più brutta perché è quella che io alla quale io non riuscirei mai a rispondere quindi descriviti con un brano descriviti con un brano sarebbe sicuramente un brano delle zeppi attenzione potrebbe sicuramente essere star boy to heaven ma dato che è troppo inflazionata andiamo su 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 non saprei dai ok comunque boscaren con un animo rock si esatto esatto comunque matilde che scavavano nel profondo matilde ha chiarificato l'origine del nostro nome d'arte che è bologna più vacarian vacarian è il cognome di un personaggio di un videogioco ovviamente ok da lì boscaren non me la ricordavo in mezzo così mi piace grazie matilde per aver svelato il retro scena di boscaren che però nella mia mente era un po tipo boscaiolo vista la camicia esatto è come amo vestirmi di solito da boscaiolo è perfettamente cucito su di te questo nome sì esatto un po meno su di lei forse però l'accetta andiamo all'ultima domanda di questa rubrica pazzerella il rumore che odi di più le unghie del mio gatto sul muro vorrei strapparmi le orecchie buttarle buttarle nel water praticamente vogliamo l'occasione ovviamente per richiedere la presenza di chicco che abbiamo capito però c'è un po' di diaspora interna familiare sono le 9 e 37 lui a quest'ora già nel mondo dei soldi mamma mia è una nostra invidia devo dire che comunque è la nostra mascotte per chi non lo sapesse ovviamente ogni tanto quando nick è in regia quindi voi non lo vedete ma noi lo vediamo ogni tanto si vede ton 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 il codino di chicco che passa in nick col terrore che lo muove per paura che lanci un raggio spaziale o qualcosa del genere con le sue zampotte esattamente vorremmo approfondire la storia di chicco però siccome non sta dormendo non si parla degli assenti e cogliamo l'occasione invece per approfondire un po' la tua e per presentarti in modo più decente al nostro variegato pubblico e beh nicolò insomma abbiamo già detto che ci ospita in realtà perché è uno dei fondatori di slow records che ci ospitano come etichetta discografica su questo canale e però vorremmo un po' sapere chi sei cosa fai perché sei qui dove vai qual è il tuo scopo nella vita quelle cose semplici insomma la risposta a tutto questo è 42 comunque e chi sono? allora fino ai 25 anni sono stato un chitarrista in realtà un chitarrista elettrico per la precisione e ho anche insegnato ho fatto un po' di didattica per qualche anno un po' di attività da turnista poi volendo un po' cambiare cambiare vita diciamo ho cambiato città ho cambiato indirizzo di studi mi sono iscritto al conservatorio di Bologna corso di musica elettronica dove poi ho conosciuto tutti quelli che sono i miei attuali colleghi e amici vedi Matteo Pastorello e Mattia Siboni e da lì è cominciato tutto un altro percorso che poi mi ha portato dove sono adesso dove sono adesso? adesso l'attività fondamentale anche a causa covid è ovviamente l'etichetta e con l'etichetta cerchiamo appunto di fare quello di cui abbiamo parlato fin troppe volte che comunque divulgare quello che è la cerchia musicale interna al conservatorio e non di Bologna per il resto personalmente non sono più un chitarrista sono un improvvisatore elettronico, elettroacustico e ho una grande passione per i videogiochi e per tutto quello che riguarda poi il medium videoludico insomma quindi è quello che sono adesso alla teneretà di... non si dice noi infatti non abbiamo chiesto di 720 anni di 720 anni ci ho messo sette secoli per arrivare qui però insomma che l'abbiamo fatta ti piace la parola videoludico eh Marti? secondo me perché risuona sì 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 lo useremo dentro questa puntata si vede che mi si sono illuminati gli occhietti nuove parole da imparare allora infatti vi starete chiedendo anche se un pochino appunto avrete anche forse intuito perché abbiamo richiamato dalle tenebre Niccolò Salvi oltre che per fare una marchetta as well records ovviamente perché appunto le abbiamo beccate tutti e tre e quindi diciamo che siamo le loro colleghe preferite per non fare un torto a nessuno insomma perché anche noi siamo tre capiamo che il triangolo è un po' difficoltoso Martina è quella che ne soffre di più di questo triangolo bisognava dirlo bisogna dirlo è vero è vero perché io principalmente perché non sono veneta secondo me mi sforzo di imparare stiamo venetizzando tantissimo infatti tu stai bevendo un goto di acqua ma ci sono due toscani comunque in questa è vero c'è un'equità oggi eh sì oggi siamo però diciamo abbiamo compreso che avevamo intervistato Mattia Matteo Pastorello aveva aperto la stagione e ci mancava Niccolò anche perché lui porta veramente con sé un sacco di esatto non che gli altri non lo facessero però Nick ha questa appunto peculiarità come diceva di essere un appassionato di gaming e quindi il motivo per cui l'abbiamo evocato così tra di noi è proprio per farci raccontare un pochino meglio quali sono le relazioni tra il nostro tema principale che trattiamo a interno due punti ovvero la musica sperimentale e in questo caso parliamo di sound design e appunto il gaming quindi vorremmo un po' affrontare queste due queste due tematiche e vedere come si scazzottano tra di loro invece anche quando vanno d'accordo e però per fare questo lungo viaggio e concludere poi la puntata dobbiamo partire dall'inizio quindi un po' dall'ABC e noi volevamo proprio partire parlando di sound design si sente spesso parlare di questo mondo ma volevamo un po' approfondirlo con te e poi capire anche almeno cioè almeno abbiamo capito che è un mondo talmente vasto che un sound designer può effettivamente spaziare su tantissimi livelli tantissime anche luoghi diversi eccetera a livello proprio lavorativo quindi volevamo proprio con te partire proprio da questo ABC e farcelo un po' raccontare ok allora cercherò di essere molto sintetico certo una domandina così esatto e la diciamo sempre queste bombe per cominciare comunque ho un gran dono della sintesi quindi ci sta che fra tre minuti sia già finito tutto ti cronometreremo allora ok ottimo innanzitutto cos'è un sound designer? un sound designer è una persona che dà fondamentalmente un'identità sonora a un qualcosa che non ce l'ha vedi un'immagine il sound designer decide che identità dare a quell'immagine se per esempio l'immagine è di un foglio che cade a terra il sound designer può decidere di rendere questa caduta lieve oppure grave aggiungendo suoni totalmente strani anche alla scena che però suoni che caratterizzano poi in maniera forte identitaria la scena stessa il sound designer nel mondo videoludico fa appunto questo caratterizza totalmente un mondo che idealmente e naturalmente non esiste quindi è vero che il videogioco la prima cosa che si nota di un videogioco è sicuramente l'aspetto visivo l'impatto grafico come è stata come è stato disegnato il videogioco ma la cosa che più aiuta l'immersione poi del del videogiocatore all'interno dell'opera è senz'altro il sound design e tutta la parte relativa al sound design e musicale poi dell'opera perché senza di quella non sarebbe veramente possibile definire il videogioco videogioco un esempio banalissimo sono i videogiochi horror i videogiochi horror si basano al 90% sul sul sound design dove a volte c'è la totale assenza anche di di musica ma semplicemente dei passi del personaggio e qualche gocciolina qualche rumore a destra a sinistra che ti fanno capire da dove sta per arrivare il pericolo capire qual è la direzione da seguire quindi il sound design è una parte molto importante del videogioco io ho presente solo assassin's creed su questa tematica che c'è l'unico videogioco forse ma non so se lo definirei è horror però no non è proprio horror però che mi fa paura Fran mi dì la verità però anche i profi quando arriva Gargamella mi fa paura quindi vediamo ad Ubisoft assassin's creed tendenzialmente ogni gioco ogni capitolo della saga si basa su un periodo storico quindi anche lì il sound design è importante per richiamare alla mente alla memoria suoni di un'epoca che cioè suoni che pensiamo siano potuti appartenere a quella determinata epoca vedi l'epoca dell'antico Egitto antica Roma e così via insomma quindi anche lì il sound design è molto molto importante ma infatti Nicchi io ti volevo fare una domanda ma questa proprio per curiosità qual è secondo te un esempio ottimo di un videogame ben riuscito che veramente ha un sound design tra virgolette da Oscar cioè che se ci fossero gli Oscar dei videogame forse ci sono perché io sono ignorante e chiedo scusa vincerebbe come appunto apice del raggiungimento di questa immersione di questo contrapunto all'immagine di cui tu parlavi miglior colonna sonora esatto ci sono ovviamente degli Oscar del videogioco ovviamente semplicemente per il fatto perché l'industria videoludica fattura molto di più di quella cinematografica è vero quindi ovviamente si è dovuta un po' equiparare a quella cinematografica per poi sorpassarla e tra l'altro credo che si tengano a Los Angeles anche quelli penso quindi molto cool anche loro comunque niente di meno da quelli con Angelina Jolie con lo spacco esatto e ogni anno ovviamente ci sono le varie categorie fra cui miglior colonna sonora miglior sound design eccetera eccetera sono stato abbastanza pigro perché non mi sono andato a vedere i rivincitori di quest'anno ma secondo te secondo te non ti preoccupare è una tua opinione personale allora a livello di di saga una fra le migliori anche di sound design è abbastanza vecchia ma sta per uscire una remastered a maggio mi sembra è la saga di Mass Effect che quando uscì nel lontano 2007-2008 non mi ricordo il primo capitolo anche a livello di sound design fantascientifico fece fece dei grandi passi in avanti e adesso in realtà mi sono appassionato ad un'altra saga dove il sound design è molto particolare perché i suoni non rispecchiano mai quello che vedi quello che vedi cioè quello che vedi se te vedi una persona che cammina nella realtà ti aspetti qualcosa ma nel videogioco è totalmente falsata l'impressione che hai dei passi ti manda in cortocircuito il cervello è totalmente disorientante alienante proprio è cosa strafigo perché ti fa capire in realtà quanto è importante anche se tra virgolette dico sottovalutata la parte sonora perché appunto ti può totalmente disorientare quando magari il suono non corrisponde a quello che il tuo immaginario vorrebbe percepire ecco sì 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 quindi il vincitore dici che ha questo il vincitore mio emotivo personale è quel gioco sci-fi che vi ho detto ok ok ma se è fatto ok e invece senti quello che un'altra domanda sempre appunto a tema sound design e gaming che è molto interessante di cui appunto abbiamo già un po' parlucchiato oggi mentre facciamo il nostro brainstorming prepuntata era un po' anche diciamo una breve storia dell'evoluzione anche del sound design e delle tecniche delle competenze del gusto anche se vuoi del lavoro che si fa con il sound design appunto sull'industria e sul prodotto ludico visivo mi sono scordata videoludico 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 ancora c'è un attimo però videoludico e di conseguenza appunto anche come si è evoluta l'esperienza proprio appunto del gioco allora il primo gioco il primo videogioco credo della storia U-Peng o Pong adesso non mi ricordo il nome preciso il sound design in quel gioco fu fatto dagli stessi sviluppatori ed era semplicemente una pallina che rimbalzava da parte a parte sicuramente l'avete visto ed erano mi sembra due suoni della differenza di un tono quindi quello è stato tra virgolette il primo sound design poi si è passato al sound design degli anni 80 degli anni 90 che era comunque molto semplice ma che caratterizzava appieno ogni singolo aspetto del videogioco se si pensa Super Mario se voi doveste riascoltare adesso Super Mario sapete perfettamente quel suono è il suono di quando prendi il fungo quel suono è il suono di quando muori insomma c'è una discreta memoria è un po' come la Madeleine di Proust ti ricordi il fungo di Super Mario sì c'è anche della memoria generazionale insomma il Super Mario e poi si sono tornati di moda un po' sì sono tornati di moda sono tornati di moda perché sono tornati in auge sound design sui vecchi nintendo era proprio leggendario sì musica orizzontale ci commenta musica orizzontale ti salutiamo grazie e ti aspettiamo sono tornati in auge i giochi cosiddetti indie indipendenti tra cui abbiamo finito da poco Undertale che è un videogioco del 2015 che ha vinto una miriade di premi che si rifà proprio anche alla pixel art e al sound design tipico degli anni 90 e comunque il sound design poi negli anni 2000 e 2010 si è si è evoluto vertiginosamente soprattutto grazie alla adattività del suono all'interno del videogioco cioè l'ambiente sonoro si evolve così come si evolve l'ambiente visivo il personaggio e il personaggio insomma è sempre un ambiente in continua evoluzione ma torno un attimo indietro così giusto per divagare tanto hai parlato di videogiochi indipendenti e cosa si intende per videogiochi indipendenti se è un po' come dire per la musica indipendente nel senso che magari non c'è un'etichetta sotto tipo la Sony non so mi viene inventata per la musica non so se può essere paragonabile a no a volte per giochi indipendenti si intende proprio indipendenti spesso e volentieri finanziati da campagne kickstarter per esempio questo gioco che vi ho appena menzionato è stato scritto sviluppato e composto cioè tutto il sound design colonne sonore composte da una singola persona ah ok un altro gioco che si chiama Hollow Knight è stato sviluppato da tre persone con una campagna kickstarter quindi sono giochi che sì sono inizialmente indie e indipendenti poi una volta che hanno raggiunto quel successo secondo me andrebbero categorizzati in altro modo perché non sono più un non fanno più parte di un qualcosa di indipendente nascituro ma sono una realtà affermata di successo quindi è una cosa un po' diversa poi una volta che hanno raggiunto un determinato successo certo sì perdono un po' il senso di indipendente se si interna indipendente anche economicamente indipendente dalle grandi industrie e le grandi case di produzione esatto senti che invece oltre al cambio appunto di stile e anche l'evoluzione quindi no poi delle potenzialità degli strumenti che si usano ci avevi parlato anche di un cambio proprio di tecniche no quindi proprio di uno studio attento della strumentazione e di una ricerca per rendere questa esperienza appunto il più immersivo possibile anche questo ha un'evoluzione ovviamente sì 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 oggi vi citavo il caso di playstation 5 in cui sony ha implementato questo questo nuovo sistema che mi sembra si chiami tempest che riprende un po' dall'olofonia o comunque la registrazione binaurale ovvero un tipo di registrazione che dovrebbe permettere poi una volta ascoltata la più fedele la qualità più fedele possibile a quella dell'ascolto umano è molto difficile soprattutto perché molti videogiocatori dipende anche come l'ascolti poi queste queste registrazioni molti videogiocatori magari giocano con delle cuffie non di altissima qualità oppure dagli altoparlanti della televisione o dalle casse del computer insomma anche lì servirebbero anche lì hardware abbastanza potenti però Sony ovviamente da buona multinazionale ha promesso di risolvere tutto questo con un paio di cuffie da 100 e qualcosa euro e vedremo comunque questo si basa molto su appunto sull'olofonia la registrazione binaurale in quanto la promessa è quella di riuscire a sentire come per l'appunto se fossimo al centro di una scena quindi sentire esattamente il suono che è dietro sopra la distanza la posizione addirittura hanno promesso che riusciremo a sentire la singola goccia d'acqua che cade quindi insomma ci sono molti progetti ambiziosi nell'ambito audio però ancora è un po' presto secondo me per poterne apprezzare appieno tutte le caratteristiche soprattutto per un pubblico generalista insomma ecco volevo chiederti se era presto per il pubblico o per la ricerca magari tecnica che ci può essere dietro no per la ricerca tecnica secondo me no il punto è che soprattutto nell'ambito delle console ovviamente le grandi case devono riuscire a dare hardware potentissimi ad un prezzo veramente basso quindi ci vogliono ovviamente dei tempi dei tempi tecnici per far sì che determinati componenti si abbassino il loro prezzo per essere poi più accessibili al grande pubblico e a chi non può permettersi di spendere magari migliaia di euro di strumentazione insomma certo e volevo chiederti intanto visto che sei un musicista e quando hai parlato di musica binaurale il mio primo collegamento cioè il mio cervello ha detto binaurale binaural per jam chiedi di cosa salvi se conosce questo album per jam ovviamente lo conosco non credo che abbiano registrato niente in binaurale in quel disco no quindi stavo riguardando prima della puntata è un po' appropriazione se volete esatto so che i Pink Floyd e i Roger Waters però hanno registrato qualcosa in binaurale sicuramente sì e adesso te lo trovo anche e poi volevo chiederti appunto queste tecniche appunto questa esperienza vogliamo chiamarla holofonica eccetera che diciamo che traduzione ha e che cosa fa accadere a livello di gaming questa immersività cioè se sei utilizzato in che modo cosa succede cioè che tipo di esperienza ti può dare beh rispondo un attimo a una domanda di Matteo Fell che chiede ma poi salutiamo va accompagnato di un impianto audio del consumatore adatto no sì esattamente cioè è inutile portare avanti tecnologie poi irraggiungibili al consumatore medio perché come ho detto prima se uno utilizza cioè videogioca su magari utilizzando gli auricolari del telefono o gli altoparlanti della televisione molto difficilmente se non impossibilmente riuscirà credo di aver appena inventato impossibilmente riuscirà a percepire tutte quelle che possono essere le sfumature volute dal produttore insomma per rispondere a Francesca tutte queste cose in realtà stanno diventando un po' il futuro del videogioco cioè il videogioco ovviamente per vendere di più ha bisogno che il consumatore sia sempre più attirato dall'immersività che il prodotto gli offre quindi ovviamente sono tutte tecniche tutte strategie si può anche dire per far sì che il consumatore sia sempre più legato e immerso in un determinato prodotto certo ovviamente poi anche a livello artistico ci saranno sicuramente studi studi che lo utilizzeranno in un modo studi che lo utilizzeranno in un altro poi quello dipende da software house a software house ok comunque per rispondere alla tua domanda di prima sui Pink Floyd facendo una banalissima ricerca su Wikipedia in realtà allora i Pink Floyd come registrazione realizzata utilizzando l'olofonia e Wikipedia mi dice The Final Cut ma pensa però attendo un tuo successivo riscontro se qualche professionista o non avrei mai pensato The Final Cut perché l'ascolto non lo so no io infatti io sto leggendo Wikipedia non mi prendo nessuna responsabilità e poi anche c'è un Roger Waters singolo da solo oh penso The Pros and Cons of each hiking che dice non suona campanella non mi suona nessuna campana no però vabbè e poi tra l'altro siccome mi ero fatta un po' di ricerchine sull'olofonia in un momento di buca mi sono innamorata di questo pezzo degli Psychic non so se si dice Psychic o Psychic qualcuno mi corregga tv che si chiama Dreams Less Sweet che mi piace proprio da morire cioè è bellissimo e anche ascoltato su Youtube che non pensavo abbia una qualità grandiosa però ascoltato in cuffia su Youtube io percepisco qualcosa di diverso diciamo da un ascolto sì sì comunque qualcosa di diverso quindi anche consigli per gli acquisti si può percepire comunque Mattepasto28 che tutti conosciamo benissimo sì ci chiede con il VR quanto cambierà lo stile compositivo del sound design ancora senso parlare di binarale e poi lui ha una piccola critica all'olofonia dicendo che l'olofonia secondo lui è una gran paraculata ok ma andava di moda inizio il lockdown o no la donna allora sono in parte ma te pastorello a te non arrivavano 5.000 messaggi dicendo ascolta questo grano fighissimo questa esperienza attraverso le tizie in realtà in che anno è nata cioè è è vecchio no come sistema l'olofonia eh credo che abbia una trentina d'anni che però nei season non è che è una paraculata è una paraculata dell'82 quindi almeno ogni 80 direi se posso interpretare quello che scrive Matteo secondo me lui la considera una paraculata perché vuole un po' emulare la registrazione binaurale bypassando tutto quello che il binaurale ha cercato di fare ovvero filtrare il suono tramite un manichino che simula il cranio dell'ascoltatore il binaurale l'olofonia invece è semplicemente un microfono chiamato olofono credo che simula questa cosa quindi sì è un po' una paraculata in effetti il binaurale è sicuramente molto più preciso cioè più raffinato forse come strumento quindi effettivamente quei software di cui parlavi prima hanno lavorato in modo binaurale? ho visto delle immagini di registrazioni di Sony per implementare poi nel software Tempest in realtà c'era una cosa tipo una cinquantina di microfoni per registrare una singola fonte sonora quindi sì è un binaurale che si sta un po' espandendo però per adesso ho trovato veramente poco sul su come funziona di preciso il Tempest mi sa che hai già un po' annunciato la nostra rubrica lo spiegone sonoro che dice Franmi? sì infatti sarebbe stata la prossima domanda che volevamo lanciarti così con con questa con la rubrica che abbiamo inaugurato la settimana scorsa con Federico Pipia e cioè lo spiegone sonoro oddio e domandarti a livello tecnico come funziona diciamo la registrazione e poi la trasmissione riproduzione dei suoni in questo caso non so se paragonarsi metterli ma in un videogioco? ma non necessariamente no nel senso se vuoi fare una specifica sul videogioco per me va benissimo lo spiegone sonoro è aperto a qualsiasi noi stiamo ancora aspettando il jingle comunque esatto no tutto questo preambolo era per ammonire Matteo Pastorello e dirgli che non c'è ancora fatto il jingle per la rubrica lo spiegone sonoro ah è vero Matteo Pastorello è un gran è un gran pigro quindi su cosa lo volete lo spiegone sonoro dai tu Nick vado io allora intanto Mattia Siboni a musica orizzontale è partita parlando di questo 8D Mattia dice vogliamo l'8D vai Mattia tutti avevamo Billie Eilish 8D sul telefono l'anno scorso chi nega mente io nego perché non so di cosa state parlando magari ce l'avevo pure io mi sono perso allora Billie Eilish io ci sono ce la faccio sì ok 8D 8D che non è un 3D immagino chiarificaci questo 8D è un 8D è una battaglia navale qualcuno ce lo spieghi non so faccia un intervento e faccia lui lo spiegone sonoro esatto fateci voi da chat Nicolò scrivi un riassuntino un bignamino sull'8D in chat no se veramente non te la senti Nicolò allora Nicolò si buoni andiamo avanti che abbiamo una rubrica eccezionale era una catena di Whatsapp attenzione c'è stato un periodo in cui girava sto audio in 8D sul telefono vabbè tipo la catena di Sant'Antonio sì esattamente esattamente ok no io le catene mi le ricordo ai tempi del 3310 non degli smartphone secondo me domani ci ritroviamo intasati cellulari perché tutti ci mandano la catena l'8D chi ha il nostro nome di telefono ce lo mandi per favore se vuoi puoi mandarselo se vuoi 1243 dai quello di Pastorello in realtà credo fosse proprio una traccia convertita in binaurale tramite qualche VST quindi una merda ottimo possiamo dire merda in questo programma siamo lì ma non si può fare sì non si può certo ci siamo io e Frani devi dire le parolacce comunque piccolo bignamino tecnico vai cos'è il binaurale detta in soldoni come la spiegherei a mio padre praticamente c'è un manichino che simula effettivamente la testa dell'ascoltatore e al posto delle orecchie vengono posizionati due microfoni questi due microfoni catturano il suono 360 gradi ma la particolare è che essendo ai lati del manichino il suono viene filtrato dallo stesso manichino quindi si percepiscono i suoni effettivamente come se fossimo al centro di quello che viene registrato ok ottimo ora Matteo di sicuro mi infama in chat Matteo ma di sicuro guarda ci scommetto beh l'importante è che la chat sia accesa quindi secondo me l'8D è una gran figata così se vogliamo continuare a gettare benzina sul fuoco io lo trovo con le mie auricolari trovate in un cassetto binaurali auricolari binaurali assolutamente binaurali sì per me la qualità è eccelsa e dopo questo apice super teorico ma raccontato come Niccolò Salvi lo racconterebbe a suo padre sono lieta di presentare e lanciare la meravigliosa gira la nota ormai se ci seguite già da tra puntate comunque volevo un attimo spiegarla noi abbiamo inventato questo meraviglioso format e lo usiamo adesso un po' per alleggerire questi momenti perché abbiamo fatto veramente un grande ripasso e per noi in realtà uno studio approfondito su queste tematiche e dici caro è uscito qualcosa o devi ancora girare? devo ancora girare scusate ragazzi c'è un regista un po' lento stasera cioè fare regista ospite tutto stiamo chiedendo di spiegare anche delle cose come se fossimo tuo papà esatto è difficile tu quando ci sei la giri? non ho mai ascoltato vai vai si scoprono subito gli alterini vai vai non ho mai ascoltato oddio però questa domanda fatta a un musicista ma io sono pieno di cose che non ho mai ascoltato figurati sto cercando di trovare sto cercando di trovare quella più umiliante per me oh grazie questo sì che è commitment verso il gira la nota rispetto la tua descrizione il Zeppelin le Zeppelin le ho ascoltate prima eravamo mutate perché avete fatto un jingle per noi o perché così c'era un problema no perché cambiando scena mi ero scordato di aggiungere l'audio alla scena ah ok peccato pensavamo in un giro alla nota però apriamo un open call a Siboni e Pastorello e anche a Nick però Nick già gira fa troppe cose ai tuoi degni compari fateci sti jingle raga anzi io direi di aprire un open call a tutti a tutti a tutti la musica è contale se per caso voleste partecipare anche perché ci piace non hai mai ascoltato l'ultimo album di Siboni no l'ultimo album di Siboni l'ho ascoltato non credo insidiosi queste da aver mai ascoltato non dico cose sull'elettro acustica sennò veramente mi cacciano ti bagniamo subito a noi puoi dirlo sicuramente non ho mai ascoltato la trap per più di 10 secondi vabbè quello è capibile cioè ma niente niente nemmeno per sbaglio niente cioè appena sento qualcosa che mi può sembrare trap io mi uccido perché il beat lo senti subito da lontano è il vibrato mi è uscito bene comunque anche nell'ambito elettroacustico in realtà quando facevo il conservatorio che ancora non ho finito però va bene questo è un altro discorso quanti esami ti mancano? ma tipo tre la tesi solo che ormai dai adesso facciamo le mamme dai Matteo e Nicolò Matteo no mi ha chiamato Matteo è come le mamme confondi i nomi dei figli e di Nipone comunque anche alcune cose elettroacustiche devo ammettere che non le ho ascoltate infatti non me le ricordo però va bene speriamo che nessun tuo insegnante ti stia ascoltando li potrebbero offendere forse allora quella volta che ho dato l'ascolto lui mi ha detto interessante ma può andar bene lo stesso guarda anche se mi ascoltano ok ragazzi allora io secondo me rigiro la ruota dai bravissimo esatto quello volevo chiedere faccia un altro spin come si fa come si fa allora eliminiamo non ho mai ascoltato e andiamo oh questa sono prontissima che cos'è? primo album comprato oh questa è no questa non era ancora uscita il primo disco di Evanescence nice si vede che è la nostra era full band di Evanescence quella roba lì ma io ero innamorato di Emily ovviamente certo certo noi non eravamo innamorati del suo collega musicista no lui era un truzzo che la metà abbondantemente era figa sì la era finissima su My Immortal con quell'abito da sposa esatto esatto quando canta sul tetto mamma che bello bellissimo peccato averli scoperti in uno fra i film più brutti è tipo il mio secondo album infatti qual era perché me ne ricordo dalla copertina sì io ce l'avevo e l'ho consumato ma non è stato il mio primo album no qual è stato il tuo primo album? devo dirlo? vai se vuoi se vuoi vabbè squarez ebbè no era dell'una pop squarez squarez lunapop ultimo primo e unico album dei lunapop che io comprai con mia mamma la quale mi dia della paghetta per farmelo comprare e io comprai afferrai il cd e mia mamma mi disse ma tu non hai il Walkman quindi come lo ascolterai non ti preoccupare poi un modo lo trovo e infatti poi da lì a poco mi fu regalato il Walkman per ascoltare squarez comunque questo è il mio su il primo disco degli Evanescence musica orizzontale dice discone sono pienamente d'accordo Mattepasto grandisco e la Matildina ci comunica che lei si comprò Aquarium degli Acqua grande Matilde giusto giusto eh ma la lotta era tra quelli là poi alla fine eh sì dai alla fine i grandi cd e invece le altre due ho creato Let's Go di Avril Lavigne come primo ah calma ma The Open Door no non ho capito qual era il primo Fallen quello con la copertina tutta sul blu mi sembra sì esatto così Tevane Scensin tipo gotico non so erano abbastanza tamarri anche loro loro cioè hanno creato un tipo così sopra sì era un disegno strano quindi il primo loro album è uscito nel 2003 e io avevo The Open Door del 2006 ah basta è il tuo primo invece cd sub o il tuo primo album ho comprato non lo ricordo non te lo ricordi no no non lo vuoi dire vai ammetti è una fantastica compilation di quelle che andavano proprio in quegli anni lì aveva mi ricordo la copertina gialla e un ghiacciolo è tipo Eat Mania no no era una roba più smarsa tipo le canzoni delle pubblicità di quel periodo lì e c'era quella dell'estate come si chiama la corona sonora no no più international la corona sonora di Trace Popping non mi viene oh mio Dio Born Sleeping sì Born Sleeping quella e me la ricordo che me la sparava a manetta con mia sorella e non so di che pubblicità fosse tra l'altro però mi ricordo che era tipo compilation spot qualcosa un disco orendo giallo limone con un ghiacciolo davanti e ce l'hai ancora? no purtroppo no però secondo me lo ritroviamo tipo su wikipedia tra le flop Underworld grazie Matteo Pencratto Underworld 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 Berenik rigiro la ruota oppure passiamo oltre? passiamo oltre passiamo oltre dai direi che abbiamo svelato Altarini abbiamo parlato già di un sacco di cose pop quindi ottimo anzi in realtà questa seconda puntata no scusa la seconda parte della puntata visto che appunto gli argomenti trattati sono non solo la musica sperimentale ma anche il gaming noi siamo insomma siamo un po' indigeste comunque quindi avremmo bisogno di come dire rivalutare ribrendizzarci in qualche modo se vuoi chiede territorio esatto di farla più sull'albero quello che vuoi marcare il territorio insomma non so bullizzare no bullizzarti no diventiamo tutti un po' chicco esatto ora vogliamo mettere le nostre zampine sulla tastiera perfetto anche noi quindi bullizzare il prossimo bullizzare il prossimo no diciamo vorremmo avere un pochino più di voce anche noi no per portare qualcosa anche alla conversazione su appunto su questi temi che abbiamo trattato e in realtà volevamo traslare un po' la conversazione sul tema della realtà virtuale che come vedremo un po' più avanti appunto riguarda anche noi e noi siamo contenti di questo ma prima di portare appunto qualche esempio da discutere insieme anche dal nostro mondo che è più quello appunto dell'arte contemporanea vorremmo fare poi una domanda di reintroduzione di riimmersione a Nick ovvero chiederti in quale misura e in quale modo la realtà virtuale entra poi in contatto con il mondo del gaming bella domanda pam e eccoci qua di non avere purtroppo nessun visore per la realtà virtuale quindi non vi so dire in prima persona l'esperienza cosa comporta però secondo me la realtà virtuale sarà indubbiamente se non il futuro gran parte del futuro di tutta l'industria videoludica sicuramente molte più aziende ci stanno investendo dei bei soldoni Sony è stata una fra le prime e ci crede molto in questo progetto la Oculus ha sviluppato dei visori che sono a quanto pare delle meraviglie delle meraviglie hardware quindi sì direi che sarà una parte molto importante e lì sta andando effettivamente tiriamo l'acqua al nostro mulino sta andando un po' e soprattutto alcuni artisti stanno un po' cibando di questo di questo mondo tant'è che sappiamo che l'arte contemporanea alla fine vive nella società e abita e prende proprio un nutrimento si ciba proprio di quello che la circonda ed effettivamente moltissimi artisti si sono ispirati al mezzo videoludico visto che questa sera abbiamo imparato questa nuova dicitura e alcuni artisti appunto si appropriano non soltanto alcune volte all'estetica solamente all'estetica ma a volte anche proprio attingono al bacino narrativo di questo mezzo oppure all'immaginario creato e noi questa sera volevamo fare alcuni esempi alcuni magari più azzeccati altri no altri solo suggerimenti volevamo farveli vedere infatti chiedo al nostro ospite barra regia se vediamo insieme un pezzettino di un'opera di Ed Atkins che è un artista tra l'altro giovane classe 82 quindi molto giovane ma che è esposto in realtà in tantissimi musei famosi come il MoMA il Palais de Tokyo a Parigi e pensate anche al Mambo di Bologna e dove proprio abbiamo visto quest'opera che si chiama Safe Conduct del 2016 e vorremmo farvi farvene vedere un pezzettino procedo subito come Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Mi ero abbastanza emozionata perché mi piace tantissimo in realtà quel video e in realtà sì sarebbe bello vederlo tutto intero ma in realtà dura tantissimo. E mi dispiace per musica orizzontale è stato un po' indigesto ma in realtà tralasciando come dicevo la parte più del messaggio in realtà e la poetica di questo artista noi lo vogliamo prendere qui solo dal punto di vista proprio estetico. Lui utilizza spesso questi avatar che hanno un chiaro riferimento visuale al mondo spesso del videoludico. E lui in questo caso, in questo video rappresenta tantissimo il loop, c'è questa musica di sottofondo che è il bolero che è assolutamente una colonna sonora che intanto dà molto pathos ma anche qualcosa che coinvolge. Abbiamo parlato prima di quanto il suono sia importante anche nel video e quindi volevamo proporvi questo artista anche così se lo volete approfondire. E' interessante. E poi avevamo un secondo esempio forse. Sì avevamo un secondo esempio. Grazie prendo la palla Sabir. Te la lancio. Presa. Il secondo esempio tra l'altro è interessante Nicca che tu abbia parlato di Oculus perché proprio questo artista di origine inglese ha usato nella sua installazione per presentare il suo lavoro proprio un visore per la realtà virtuale di Oculus. Io ho anche provato quindi ti posso dire sì è stato molto emozionante. Perfetto perfetto. Però era anche il mio primo visore quindi chi lo sa. Ok. Però il primo visore non si scorda mai. Allora questo artista di cui vi parlo un secondo si chiama Patrick Alan Banfield anche lui molto giovane. Vi volevamo ci faceva piacere anche parlare e portarvi esempi giovani freschi di opere prodotte almeno negli ultimi cinque anni ecco per non cadere sempre un po' nella retorica appunto di una storia dell'arte un po' un po' passata. Questo è un artista che ha fatto un'operazione sempre molto interessante dove lui ha utilizzato la realtà virtuale in realtà per creare quello che potremmo chiamare semplicemente anche un cortocircuito di visione in qualche modo. Ovvero il suo obiettivo qual era? L'opera consisteva in una seduta dove tu appunto ti mettevi a sedere e indostavi questo visore e c'erano dei cinque schermi. Quindi la visione era praticamente a 360 gradi. Cosa vedevi? Vedevi dei ritagli, un insieme quindi di raccolte dell'archivio dell'autore ovvero di Banfield. Quindi cosa succedeva? Tu avevi da una parte questo visore che quindi appunto simula una realtà, quindi simula proprio come se tu fossi, non so per dire in un altro posto e non fossi seduto, in quel caso io ero a Palazzo Strozzi a Firenze. Ma la cosa interessante è che non è che simula una visione per così dire oggettiva, ovvero appunto ti trasporto in un deserto, ti trasporto in un altro posto o in una realtà fantastica. Ma lui ti trasportava dentro la sua visione perché il suo archivio visivo erano tutta una serie di riprese che lui aveva fatto col suo gusto, quindi col suo taglio, con la luce, con l'inquadatura in quel posto lì. Quindi la cosa interessante è un po' questa, cioè che c'è una sovrapposizione in qualche modo anche di intimità dello sguardo, in cui tu non vedi una cosa oggettiva, ma hai una visione di un mondo in qualche modo preselezionato che è quello che poi appunto presenta l'artista. Poi l'obiettivo, come diceva appunto anche Sabrina, il nostro focus era più sulle modalità in cui viene usato, non tanto su quella ricerca dell'artista che tutte viaggiano in modalità e in direzioni molto diverse, ma l'idea appunto di Bounfield era quella di raccontare e fare una critica anche al bombardamento che noi viviamo quotidianamente di immagini. Quindi essendo anche immerso in questo bombardamento, aveva un effetto decisamente notevole. Io mi ricordo quando ho provato, sono stata seduta un minuto e mezzo, non credo di aver resistito tanto di più, perché era veramente quasi asfissiante come risultato. Però anche qui appunto la realtà virtuale viene usata con uno scopo completamente diverso, ma sempre attualissimo e per raccontare qualcosa di specifico. Ok, procedo a far visionare il tutto. No, aspetta, perché Bounfield, avevamo deciso che non era, non volevamo farlo vedere, ma semplicemente perché, allora non so se ci sarà mai un'altra mostra di Patrick Callan Bounfield, ma in realtà questo era più interessante raccontarvelo che non farvelo vedere. Quello che in realtà vorremmo farvi vedere è un'altra opera a cui siamo anche affezionati un pochino noi così, come anche collettivo. Me la faccio raccontare a franni così, ognuna di noi espone il suo apporto sulla realtà virtuale. La troviamo tutte insieme, quindi insomma. Esatto, infatti questa l'abbiamo scelta, beh, a parte per appunto l'esperienza immersiva comunque che porta anche perché siamo legate all'esperienza che abbiamo fatto noi, in particolare quando l'abbiamo vista, e anche l'esperienza che abbiamo avuto nel poi intervistare i curatori di questo progetto. La mostra si chiamava Anahana Full Bloom, che è un progetto dell'artista francese Melody Mousset, e è stato curato da Trapi Galaxy, che è un duo curatoriale con il principale a Torino, e salutiamo Matteo Mottini e Ramona Fonzini. E tra l'altro Ramona musicista, anche lei molto brava, e insomma una persona da seguire, questo è un lancio per chi ci sta ascoltando del mondo artistico, musicale e sonoro. E un invito per Ramona in realtà. Anche un invito per Ramona. Ramona, we want you. Esatto, e questo bellissimo progetto era legato in realtà a un progetto collegato con l'ospedale Santa Margherita, se non ho sbaglio, di Torino, qualcuno mi vorrei aggancato, in cui con l'apporto di questo visore di realtà virtuale e con una, non so come definirlo, telecomando? Un joystick era. Un joystick, esatto. Si potevano costruire delle architetture, create, fatte di mani virtuali, che appunto nascevano in questi paesaggi un po' desertici, sperduti, marini, ma anche montani, rocciosi, eccetera. E appunto eri tu attraverso la tua mano e il tuo visore e il tuo joystick a costruire queste torri, questi totem fatte di mani e avambracci per tutto questo paesaggio un po' sembrava un po' lunare, quasi desertino lunare. E' bellissima, tra l'altro, la location in cui era ospitata questa mostra, che era l'ex MOI di Torino, dove erano state fatte le Olimpiadi Invernali, che è un posto veramente suggestivo, qui mi vengono in mente tantissime possibili installazioni, anche fatte da voi, da Niccolò, Mattia, Matteo, sonore che potrebbero potenzialmente essere fatte lì, perché è veramente un posto quasi al limite della realtà, perché è uno stato di abbandono, nonostante si veda che erano stati investiti dei soldi, che era ovviamente creare questi luoghi in cui si potevano, cioè questi piccoli stadi, questi luoghi per l'asvolgimento delle Olimpiadi Invernali, quindi posti potenzialmente fatti molto bene, però lasciati completamente abbandonati, e 3T Galaxy ha appunto in qualche modo risanato uno di questi, mi viene a chiamarli hangar, ma non erano hangar, si, è un luoghi di hangar in cemento armato, esatto, l'ha un po' risanificato, e ha creato questa installazione di Melody Mousset, veramente molto bello, di questo possiamo vedere un pezzettino, mi sembra che tu abbia un link, a tutti i nostri spettino, Beh, abbastanza Creepy Da un certo punto di vista Però era bene Anche farlo era creepy Secondo me Tra l'altro mi è venuto in mente Sì, l'abbiamo provato tutte e tre È stato divertente perché a un certo punto Come succede con la realtà virtuale Perdi completamente l'orientamento E quindi c'è questa foto prima di Franni Che all'inizio ti cominci giustamente Con cuffia, visore, tutto quanto Rivolto verso lo schermo E Francesca si era arrotolata su se stessa E guardava dalla parte opposta Quindi era molto carino Ma poi io mi ricordo che Siccome ho manualità zero con queste robe Finivo sempre sotto acqua E cioè era una cosa allucinante Non riuscivo ad uscire da quest'acqua Non riuscivo a costruire le mie manine E poi simulava anche le altezze E quindi era interessante Perché ti potevi anche arrampicare Su queste sculture O sulle tue stesse torri che creavi Quindi era molto affascinante Sì E diciamo che da questi esempi Di opere d'arte Cerchiamo di fare un ragionamento Un po' più ampio Quindi siamo andati nello specifico Ma adesso facciamo un passo indietro Perché in realtà Tutto il mondo dei beni culturali Si sta aprendo a questo mondo Di cui abbiamo parlato Infatti le tecnologie digitali Stanno modificando anche l'esperienza di visita Ad esempio all'interno dei musei E questa realtà aumentata O realtà virtuale È sempre più nominata Infatti se voi entrate in un museo C'è sempre un cartellino O nel sito C'è un riferimento a qualcosa di Che dovrebbe essere almeno Una realtà virtuale In tanti casi Non è proprio così Però ve ne abbiamo Anche qui trovati due Che a noi sono piaciuti Un po' come esempi virtuosi Infatti la prima è più una mostra Ha sparita Martina adesso Sì perché in realtà stavo dicendo La seconda invece riguarda Paratumitti a Firenze E Martina ha detto E Martina se ne è andata subito Beh a turno siete sparite tutte Quindi stasera Sì un po' per ciascuno Non fa male a nessuno Ok su Twitch adesso vedono tipo Pollock misto a un Picasso Qualcosa di simile Anche se mi sposto Eh sì ormai sì Però va bene così dai Mattepasto ha commentato Dicendo fighissimo Agnetina interessanti tutti e tre gli esempi Quest'ultimo un po' inquietante E Matteo Fell Crayac Credo si pronunci Crayac Mi dicono dalla regia della regia Parobe simili ma non so se conoscete Non abbiamo capito Crayac Crayac Parobe simili non so se conoscete No Matteo Fell Dacci qualche altro indizio Mettici un link Grazie però per Io non ho capito Grazie per la suggestione Sì infatti Che dilo Sabina Matteo Fell E poi ci dici Ma no io ho capito che è stato un altro scrivere No no Matteo Fell E cosa ha detto E cosa ha detto? Siccome la nonna è ricoglionita che non capisce Matteo Fell è la regia della regia Anche in Londrina Non voglio ripronunciare quel nome io Allora Matteo dice Siria Parobe simili Non so se conoscete Sì che la conosco Ah ok Grazie Fabri Una su quale Però Cioè Mi ricordo Perché sicuramente forse l'abbiamo visto un po' insieme E però non ve ne so parlare Quindi andremo tutti a vedere su Google Quindi glissiamo Certo Ma cosa mi avete detto quando io non c'ero raga? Palazzo picco Niente che abbiamo aspettato Ah grazie Per non lasciarmi mai indietro che sapete la mia più grande paura Esatto Perfetto No stavamo introducendo i due esempi E appunto stavamo dicendo che il primo esempio che vi vogliamo portare In realtà è una mostra Quindi in realtà è un po' un ibrido tra il primo gruppo e il secondo gruppo Quasi paragonabile a TGalaxy Anzi sicuramente adesso tapirete ma in un contesto molto più ampio E anche in un posto molto più istituzionalizzato come Fondazione Prada Il secondo esempio di cui poi vi parleranno Martina o Sabrina È invece proprio un esempio più di mediazione E legato proprio a un contesto museale Franni scusa se ti interrompo Però stavo ancora pensando Ma chi è sto Siria che non mi viene in mente Adesso mi è venuto in mente È un artista Solo per concludere e dare delle informazioni Che potrete trovare su YouTube Ci sono tantissimi video E non c'entrano molto con la realtà aumentata Penso Se metti realtà aumentata con quei video Paraflesci un po' Perché sono dei video molto tipo con degli effetti ottici Quindi sono molto immersivi in realtà Perché effettivamente da delle mucche Nascono altre mucche e così via Però non stiamo parlando di realtà virtuale Comunque Matteo Fella ha postato un link Sparaflesciata finale Potremmo vedere se nel frattempo che noi parliamo Magari il nostro ospite regista vuole trovarci qualche video E poi ce lo sparaflesci alla fine Sì, ok, allora io consiglio quello lì appunto delle mucche Che non è male E magari alla fine Alla fine Sempre di Siriac Sì Se Matteo Fella linka anche quello io sono contentissimo Secondo me se lo chiedi arriva Perché ne ha linkato uno Ne ha linkato uno con delle mani adesso Ah vabbè magari vuole quello Mostriamo quello Matteo Fella linka quello delle mucche Ok quindi Vabbè scusa Franni comunque che stavi facendo ragionamento Vabbè comunque questo ce la lasciamo per il gran finale Vi diamo la buonanotte con un video psichedelico Che vi tormenterà i vostri sogni e i vostri psicanalisti I nostri Comunque per tagliare un pochino e per lasciarvi anche il piacere della scoperta Vi introduciamo questi due esempi senza dilungarci troppo Il primo è Carne e Iarena del regista Leandro Gonzales Sinaritu Che ha diciamo in qualche modo trasportato a Fondazione Prada di Milano L'esperienza della migrazione dei migranti che oltrepassano anzi il confine tra gli Stati Uniti e il Messico E questa mostra è stata scusate molto particolare Era del 2017 Ovviamente avete già capito che in realtà le tematiche sono molto 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 attuali Perché il regista è stato in grado di inserire lo spettatore in un ambiente totalmente immersivo Oltre ad essere muniti di visore Gli spettatori erano anche inseriti in un ambiente in cui luci e anche il terreno Quindi il pavimento Simulavano, cercavano in tutti i modi di simulare questa esperienza Infatti c'era per esempio la sabbia a terra anziché il pavimento E non so se vogliamo vedere il breve trailer di questo progetto Se no vi lasciamo decidere Lo metto subito Anche perché questa è la mostra che non c'è più Quindi almeno uno si fa un'idea comunque Ok, più o meno al cinquantesimo secondo Quando c'è scritto il titolo poi stoppare Perfetto Procedo Ok Grazie Regia Grazie a tutti Grazie a tutti ok ok quindi questo era diciamo solo una sorta di taser del progetto trovate sicuramente un sacco di documentazione sicuramente nel sito della fondazione Prada di Milano ma comunque anche su youtube si trova qualsiasi cosa e invece il secondo esempio che vi volevamo fare entra proprio a capofitto nel mezzo videoludico ma veramente con tutto il corpo e con tutta l'anima perché si intitola tra l'altro The Medici Games potete intuire che effettivamente questo è un gioco che è stato prodotto e ideato da Palazzo Pitti che si trova a Firenze in Toscana da dove proviene Martina anche Nick anche Nick scusa siamo due stasera è un progetto questo qui del 2020 quindi fresco fresco molto recente e è stato proprio ideato per una fruizione durante il lockdown si tratta proprio di un videogioco in cui si può giocare e accedere alla residenza medicia proprio risolvendo casi di omicidio quindi è veramente è come se fosse un gioco vero e proprio di questo abbiamo il trailer che è avvincente non so se vogliamo vederne un pezzettino solo per farvi venire la voglia di giocarci io lo farei vedere perché secondo me vi fa venire davvero la voglia di dura un minuto tra l'altro quindi si facciamolo vedere poi Niccolò ha detto che ci vuole giocare quindi si si procedo subito grazie a tutti grazie a tutti sì io lo voglio assolutamente giocare questo gioco allora devo dire la grafica non fa non è in competizione con quella di Assassin's Creed o altre cose è un pochino più boh non so come dire sembra una versione beta beh è una versione è un Tomb Raider a Palazzo Pitti quindi Tomb Raider è l'unico gioco a cui abbia giocato in vita mia Anna probabilmente sì anche io quello sì sì esatto esatto però questo che è quello che ha di interessante che appunto di certo non punta su una qualità eccelsa però è proprio uno strumento di mediazione quindi ci piaceva anche concludere con questo ovvero anche i musei stanno abbracciando come diceva Niccolò l'industria del gaming che è appunto un'industria sconfinata e che soprattutto la cosa interessante è quella che raggiunge un'utenza che non sempre è quella che va al museo anzi spesso spesso raramente quindi è un buon è un buon aggancio su questo mi piacerebbe prima di salutarci perché insomma vi abbiamo fatto vedere tante cose quindi siamo state belle farcite per mantenere la metafora e hanno mandato le mucche infatti bravissimo sì so che c'era una perché dicevano che effettivamente filologicamente corrispondeva un po' più quello delle mani però quello delle mucche è meglio Niccolò decidi tu sei l'ospite barra quindi ti lasciamo a spere l'onore vediamo un po' Marti intanto ti abbiamo interrotto no non stavo dicendo niente di trascendentale volevo solo volevo solo concludere appunto la puntata prima di lasciarvi appunto al famoso video delle mucche che passerà alla storia così poi ora gli diamo anche un nome e un titolo non vi preoccupate siamo prontissime a tutto no in realtà volevo solo fare una domanda a Nic quindi Nic ma proprio così da persona che gioca ai videogame ma che non è addetto al settore culturale cosa ne pensi di questa trovata se vogliamo chiamarla trovata di quella di Palazzo Pitti o in generale sì di usare il gaming quindi di proporre dei giochi più o meno riusciti ora questo per esempio è un bel esempio ci sono anche cose un pochino più amatoriali e sicuramente anche forse un po' da da boomer se mi permetti cioè è fatto da persone molto grandi per un'utenza che è molto lontana da loro questo è un buon raggiunge una buona secondo me sono dei mezzi dei mezzi fantastici in realtà io mi ricordo che da piccolo imparai tantissimo sui dinosauri giocando al videogioco della macchina del tempo di Cecchi Paone c'era un videogioco interattivo e io imparai tantissimo da piccolo sui dinosauri all'epoca e una cosa del genere potrebbe far venire la curiosità far scoccare la scintilla a qualcuno per magari dedicarsi a quel mondo o magari esplorarlo con più curiosità quindi certo sono d'accordo sono mezzi potentissimi meno ragioniamo a compartimenti stagni meglio è in generale per tutto quindi più le arti più i mestieri si mescolano più secondo me c'è possibilità di successo per tutti insomma ma infatti è bella questa cosa dell'unione di tante competenze che producono poi alla fine un prodotto appunto interessante ma Nick mi hai sbloccato un ricordo io da bambina avevo il giochino del computer sempre si parla di tipo Windows 95 di allacciate le scetture viaggiando si impara vero ed era che si trovava non so se nei cereali o con non so qualche giornaletto così e io ce l'avevo a tema astronomico quindi il famoso pulmino giallo con la maestra andavano nello spazio e c'erano tutti i pianeti io ho alcune cose che tuttora so e ne so veramente poco di astronomia le so grazie a quello tipo che Venere è il primo pianeta che si vede dalla terra accanto alla luna quindi insomma effettivamente non è male quindi fate più videogame perché magari ci sono delle sono delle cose più interessanti di quello che mi ricordo io però nel senso sono comunque mi è rimasta un po' la fascinazione no no capito certo certo anche perché attraverso il gioco spesso l'informazione o insegnamento e ti arriva prima se diventa prima nel nostro cervello sicuramente per un bambino dai 6 a un ragazzo fino ai 14 anni secondo me il gioco è un potente mezzo di apprendimento quindi dovrebbe essere sviluppato e utilizzato molto di più assolutamente con questa perla di saggezza guardiamo le mucche sulla perla di saggezza direi proprio nel nostro stile scivoliamo verso le mucche in maniera molto così morbida intanto ringraziando tutti tutti quelli che ci hanno ascoltato chi si è iscritto al canale tutte le persone che hanno commentato in chat e che hanno collaborato e condiviso appunto questa oretta e mezzo con noi ringraziamo tantissimo ovviamente Niccolò grazie a voi sempre per la tua regia ma anche oggi per averci raccontato un sacco di cose interessantissime grazie quindi veramente e averci dato anche la possibilità di parlare anche noi un po' di arte contemporanea e niente quindi vi lasciamo Niccolò a te anche l'inconvenza di dare un nome e un titolo al video che staremo per vedere perché penso tu abbia la schermata più vicina di me allora dato che dopo questo video poi io chiudo tutto intanto un commento di Matte Pasto che dice si deve superare l'idea che il gaming sia una cosa solo per nerd o per bambini io sono pienamente d'accordo e bravo Matte sta imparando bene e questo titolo questa opera d'arte di mucche la chiamerei la mucca nel giardino è il primo frame che ho visto una mucca nel giardino mi sembra beh sarà tutto così mi sembra questo spoiler ok quindi lasciamo il nostro pubblico con questi due minuti e quattordici di mucca nel giardino grazie ciao a tutti grazie mille pubblico arrivederci ciao e via con la mucca nel giardino grazie mille 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 grazie mille